Oggi abbiamo accolto la richiesta delle associazioni di categoria che hanno chiesto di essere audite e hanno espresso in modo quasi unanime una richiesta di rinvio delle elezioni fissate per il 27 novembre alla luce di una serie di criticità con cui purtroppo da mesi tutti i settori produttivi, quindi anche quello dei consorsi di bonifica e del mondo agricolo, devono convivere, quello soprattutto dei costi sorbitanti dell'energia e quindi hanno espresso posizioni di preoccupazione chiedendo alla Regione un momento ulteriore di riflessione. Le abbiamo ascoltate e naturalmente abbiamo aggiornato i lavori della Commissione a martedì prossimo dove in contraddittorio con i commissari nominati finiremo questa fase esplorativa e arriveremo ovviamente a una decisione che dovrà comunque essere condivisa e soprattutto presa entrano inoltre il Consiglio del 18 ottobre perché ci troveremmo a quel punto a 40 giorni delle elezioni e quello a mio avviso è il momento ultimo per poter decidere eventualmente il rinvio e il posticipo delle elezioni stesse. Poi un testo unico approvato in Commissione a maggioranza che andrà al prossimo Consiglio, di cosa si tratta? Questo è un testo molto importante, credo che sia uno dei testi normativi più importanti che andremo ad approvare nel corso di questa legislatura perché il riordino di tutta la disciplina in ambito turistico è di fatto un vero e proprio testo unico che raggruppa in un'unica legge tutte le norme modificandole, migliorandole, modernizzandole, tutte le norme che vanno in qualche modo a disciplinare i vari, molteplici comparti turistici di cui la nostra regione si occupa e che la nostra regione offre. È un lavoro grande e importante che ha fatto la Commissione nei mesi scorsi, ascoltando tutti i portatori di interesse. La legge ha avuto una forte condivisione, devo dire, da parte di quasi tutti i portatori di interesse con piccole richieste di modifica che sono state già accolte in Commissione. Adesso c'è anche il Consiglio per apportare gli ultimi correttivi, però credo che siamo veramente a buon punto e che il lavoro fatto fino ad oggi possa sicuramente essere ritenuto ampiamente soddisfacente. Una risoluzione passata all'unanimità che è per il centro Amazon nel Bastesi. Sì, questa è una risoluzione del collega Smarciassi che abbiamo votato molto volentieri perché solleva un problema importante che coinvolge già oggi numerose famiglie. Se pensiamo che il numero degli addetti di questa nuova, importante realtà della nostra regione sfiora le 500 unità, ma soprattutto, e questo è ovviamente auspicabile, nel prossimo anno e mezzo, nei prossimi due anni, queste unità dovrebbero salire fino a quasi a 2.000. C'è un problema di trasporto pubblico locale che va in qualche modo coordinato proprio alla luce di questa nuova realtà che si è insediata sul territorio. È necessaria un'interlocuzione probabilmente con TUA, che è la società che gestisce il trasporto locale per conto della regione Abruzzo e con la stessa proprietà, per far sì che questa situazione di disagio che attualmente stanno vivendo molti lavoratori pendolari possa essere in qualche modo risolta.